Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 di ramazione di Napoli, dalle 22 del 5 alle 6 del 6 febbraio, attivo il restringimento di carreggiata tra lo svincolo Salerno-Centro e l'allacciamento con la 2 del Mediterraneo in entrambe le direzioni. Sulla raccorda autostradale di Avellino, sino al 9 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17, per lavori il restringimento di carreggiata tra lo svincolo di Fisciano della 2 del Mediterraneo e l'innesto con la strada statale 7 bis di terra di lavoro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 quater Domiziana, riduzione di carreggiata tra le uscite Castelvolturno-Nord e allacciamento con strada statale 7 bis di terra di lavoro in ambo i sensi. Sulla tangenziale di Salerno, sino al 16 marzo, attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Salerno-Est e zona industriale, in entrambi i sensi di percorrenza. Dalla redazione Muoversi, Lidia Angiulli Servizio a cure di Acami e Regione Campania